Qual è l'auto elettrica in grado di percorrere più strada con una sola ricarica e qual è invece quella più efficiente, quella che consuma meno? Stiamo per scoprirlo grazie ai dati del nostro centro prove. Come sapete parte fondamentale del lavoro di quattro ruote è la raccolta di valori numerici che permettono di descrivere concretamente in maniera scientifica come si comporta un'auto e fra questi ovviamente ci sono anche i consumi. E per avere un po' un quadro generale per capire come stanno andando le cose sui mercati da questo punto di vista abbiamo deciso di mettere insieme questi dati e stilare delle classifiche per eleggere la regina dei consumi. Ovviamente divise per motorizzazione. È già uscito il video relativo alle auto ibride mentre in questo parleremo di auto elettriche. E infine fra pochi giorni arriverà anche quello relativo alle termiche. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a vedere la nostra classifica. Vedremo in realtà due classifiche diverse una relativa all'autonomia che è il valore su cui ci si concentra più spesso ma secondo me ancora più importante è il valore relativo ai consumi cioè i kilowattora ogni 100 chilometri. E quindi vorrei partire proprio da qui vediamo le 20 auto elettriche che consumano meno. E partendo dal fondo in ventesima posizione troviamo Polestar 2 Long Range Single Motor consumo medio di 18,99 kilowattora per 100 chilometri. Ovviamente come potete vedere il consumo è parecchio più basso in città, un po' più alto in statale e parecchio più alto in autostrada. Questo è un comportamento tipico per le auto elettriche perché in città con le continue frenate si riesce a recuperare energia elettrica utilizzando il motore come generatore praticamente. Quindi ad ogni frenata si ricarica un pochettino la batteria. In autostrada questo effetto, questo recupero non si ha e in più alle alte velocità la resistenza aerodinamica è molto più alta quindi i consumi sono un po' più elevati. Subito sopra la diciannovesima posizione troviamo la Volkswagen ID.4 con 18,89 kilowattora ogni 100 chilometri. Siamo vicini vicini. E sempre a poca distanza troviamo in diciottesima posizione Kia EV6 con 18,82. Da notare in questo caso un consumo molto buono di appena 14,33 kilowattora ogni 100 chilometri in città. Come vi dicevo secondo me ci si concentra sempre sull'autonomia ma in realtà il consumo è ancora più importante perché se un'auto consuma meno significa che potrà percorrere più strada pur avendo magari una batteria più piccola quindi meno peso meno costo e ovviamente poi anche meno costo di ricarica perché ci sono meno kilowattora da pagare. Per chi invece si trovasse spesso a macinare centinaia di chilometri ovviamente è interessante anche sapere quanta strada si può fare prima di doversi fermare a ricaricare quindi appunto più avanti vedremo anche la classifica che eleggerà la campionessa di autonomia. Ma ora andiamo avanti con i consumi diciassettesima posizione per la Renault Megane E-Tec con 18,75 kilowattora ogni 100 chilometri e subito sopra Volkswagen ID.3 con 18,74 siamo lì lì. Devo dire che come vedrete ci sono parecchie posizioni in questa classifica occupata da costruttori europei quindi evidentemente che che se ne dica non se la cavano poi così male nell'elettrico. Quindicesima posizione Smart Hashtag One 18,65 kilowattora ogni 100 chilometri. Smart in questo caso come sapete è posseduta da gruppo cinese infatti molto interessante come rapporto qualità prezzo ma in quattordicesima posizione torniamo in Europa con Citroen EC4X consumi sempre molto vicini a 18,59 kilowattora ogni 100 chilometri. Anche qui interessante il valore cittadino di appena 13,99. Proseguiamo con Audi Q4 Sportback a 18,22 interessante perché torniamo qui su un segmento un po' più grande siamo nel pieno del segmento D e subito sopra troviamo la sua parente stretta sempre del gruppo Volkswagen Scodia Enyaq Coupé a 18,04 kilowattora ogni 100 chilometri. Ma adesso è il momento di scendere sotto i 18 perché in undicesima posizione troviamo Mazda MX-30 che tra l'altro nella classifica relativa alle ibride era presente nella sua versione plug-in quindi con sempre l'alimentazione elettrica a batteria ma abbinata al motore rotativo che può entrare in funzione per ricaricare la batteria quando è scarica. Ma arriviamo adesso in top 10 e la apriamo con Volkswagen ID.5 con 17,78 kilowattora ogni 100 chilometri. Interessante perché di nuovo torniamo su un'auto di dimensioni considerevoli e nonostante questo mi sorprende il valore autostradale di appena 21,9 kilowattora ogni 100 chilometri che evidentemente è sinonimo di un'aerodinamica piuttosto efficace sempre relativamente alle dimensioni dell'auto ovviamente. Saliamo di un gradino e troviamo la tanto discussa Lancia Y edizione limitata Cassina. Lancia Y elettrica tra l'altro con cui abbiamo percorso la 1000 miglia green e che devo dire ha attirato tantissimi sguardi perlomeno dal punto di vista estetico è un'auto che piace. In Italia probabilmente venderà molto di più con la motorizzazione termica, ibrida però troviamo la versione elettrica qui in top 10. E subito sopra in ottava posizione troviamo la sua sorella Peugeot 208 che è un po' meno efficiente in città rispetto alla Lancia Y ma consuma molto meno in autostrada. Interessante questa differenza. Saliamo ancora un gradino, torniamo in Cina, settima posizione BYD Dolphin 17,41 kilowattora ogni 100 chilometri con un consumo bassissimo in città di appena 12,52. E subito sopra, sesta posizione, faceva strano non averla ancora nominata in una classifica relativa alle auto elettriche Tesla Model 3 17,32 kilowattora ogni 100 chilometri. Sottolino però che questo era il modello del 2021 purtroppo il Model Air 2024, la cosiddetta Highland, non è ancora stata strumentata dal nostro centro prove. Penso che con l'aggiornamento potrebbe guadagnare ancora qualche posizione. Saliamo di un gradino, arriviamo in Top 5, sempre in casa Tesla questa volta con la Model Y che nonostante le dimensioni, soprattutto l'altezza maggiore riesce a essere leggermente più efficiente probabilmente perché è figlia di un progetto più recente rispetto alla vecchia versione della Model 3 qualcuno forse da parte di Tesla si sarebbe aspettato delle posizioni di vertice nella classifica va sottolineato però che parliamo sia per la Model Y che della Model 3 di auto di segmento D quindi onore a loro per aver piazzato auto importanti come dimensioni in una classifica che perlomeno per quanto riguarda la Top 10 è occupata in grandissima maggioranza da auto ben più piccole che per ovvi motivi possono essere più efficienti ma subito dopo torniamo in Europa addirittura in Italia con la Fiat 500 16,95 kilowattora ogni 100 chilometri auto non campionessa di autonomia a causa della batteria relativamente piccola ma ha come efficienza se la cava bene city car molto interessante vi ricordo come già spiegato nella classifica relativa alle auto ibride che questi numeri, questi consumi vengono ricavati dal nostro centro prove effettando dei test standardizzati quindi vengono realizzati in pista con delle rampe di velocità ben precise insomma cercando di controllare tutte le variabili possibili in modo che ogni auto venga testata esattamente nelle stesse condizioni e quindi si possano effettivamente confrontare i vari dati qualcuno di voi magari nel proprio uso quotidiano potrebbe riscontrare dei consumi diversi più alti più bassi perché chiaramente su strada ci possono essere mille condizioni diverse e il problema è proprio questo che un consumo registrato su strada difficilmente si può confrontare con altri consumi registrati su strada perché ci sono troppe variabili che possono influenzarli ovviamente poi se qualcuno di voi avesse una di queste auto di cui stiamo parlando ci faccia sapere nei commenti qual è la vostra esperienza quali sono i valori che voi state riscontrando ma saliamo adesso sul podio e lo apriamo in terza posizione con Hyundai Kona modello molto interessante perché è presente già da diversi anni e mi ricordo che da sempre nelle prove si è rivelata fra le più efficienti infatti siamo a 16,87 kWh ogni 100 km di media con appena 11,87 in città e stiamo parlando comunque di un SUV di segmento B seconda posizione occupata da Opel con la corsa E appena 15,73 kWh ogni 100 km anche in questo caso come per la 208 Q un cui è imparentata molto interessante al consumo autostradale che le permette di tenere questa media così bassa ma è il momento adesso di scoprire chi è la campionessa di efficienza e al primo posto troviamo la Dacia Spring semplicità e leggerezza evidentemente pagano dal punto di vista dei consumi effettivamente ce lo si poteva aspettare e infatti troviamo una media di 15,32 kWh ogni 100 km con appena 10,5 in città soffre un po' di più in autostrada con 22,3 e ovviamente l'autonomia si ferma a poco più di 200 km a causa della batteria di dimensioni relativamente piccole che è però proprio quello che le permette di essere così leggera quindi di essere così efficiente e anche di essere economica auto assolutamente da prendere in considerazione per chi avesse bisogno di poche decine di chilometri per gli spostamenti quotidiani avendone comunque 200 di autonomia per fare casa lavoro per la maggior parte delle persone più che gestibile e per chi ha la possibilità magari di ricaricare a casa quindi con costi dell'energia bassi considerando come ricordo sempre che la manutenzione ordinaria sulle auto elettriche è limitatissima praticamente il classico tagliando si limita la sostituzione dei filtri abitacolo stiamo parlando di un'auto che può avere dei costi d'uso veramente veramente bassi ma adesso direi che invece è il momento di scoprire chi può andare più lontano quindi vediamo la classifica per autonomia per non dilungarci troppo direi che questa volta vi dico solo la top 10 e apriamo in decima posizione con Polestar 2 questa volta dual motor con 431 km di autonomia media che possono salire a 523 km in uso prettamente urbano mentre scendono a 340 km in uso autostradale anche nell'autonomia ovviamente vediamo la stessa differenza che abbiamo visto nei consumi nona posizione Kia EV6 439 km di media e subito sopra sempre altra Kia questa volta EV9 sorprendente trovare in top 10 un bestione da 5 metri che può ospitare ben 7 persone e può portarle in giro fino a 450 km di media che salgono a 581 km in città merito chiaramente di una batteria di dimensioni considerevoli con una capacità da 99,8 kWh settima posizione rimaniamo sempre all'interno del gruppo coreano con Hyundai Kona che avevamo ritrovato anche fra le più efficienti e infatti con appena 64,8 kWh netti di batteria permette di percorrere 451 km in media valore molto molto interessante se consideriamo le dimensioni della batteria dimostrazione che trovare il giusto compromesso fra dimensioni della batteria e efficienza può essere un'arma vincente subito sopra BMW sesta posizione con la EX 461 km grazie a una batteria da 105 kWh netti siamo su tagli veramente importanti chiaramente anche il segmento dell'auto è importante in questo caso ma spostiamoci adesso in top 5 rimaniamo in terra teutonica per la Volkswagen ID.5 che riesce a percorrere 461 km ma saliamo di un gradino torniamo in casa BMW con la i7 in grado di percorrere 464 km di media sempre con una batteria importante perché parliamo di 101,7 kWh netti ma è il momento di scoprire adesso il podio e in terza posizione troviamo Audi 4 Sportback 466 km di media che salgono addirittura 590 km in città interessante rimaniamo ancora in Germania devo dire che non mi aspettavo di trovare tutta questa presenza tedesca in questa classifica perché al secondo posto abbiamo la BMW i4 che con una batteria neanche enorme da 80,7 kWh netti riesce a percorrere 477 km molto interessante anche il valore autostradale che è di 423 km in questo caso probabilmente il fatto di essere una berlina in mezzo a una classifica che è occupata in buona parte da SUV le permette invece di avere un'ottima penetrazione aerodinamica e quindi di conservare una buona efficienza anche alle alte velocità ma scopriamo adesso chi è la campionessa di autonomia e al primo posto troviamo la Polestar 2 Long Range Single Motor che riesce a percorrere 482 km anche in questo caso trovando un ottimo compromesso fra dimensione della batteria non esagerata 79 kWh e probabilmente una buona efficienza sorprende forse il fatto di non trovare in questa top 10 nessuna Tesla come vi dicevo non è ancora stata provata la nuova Model 3 2024 che probabilmente sarebbe riuscita a entrare vi posso dire che i valori che abbiamo sono per la Tesla Model Y Long Range Dual Motor 401 km di media e Tesla Model 3 sempre Long Range Dual Motor 400 km di media quindi forse a sorpresa Tesla fuori dalla top 10 di autonomia del resto loro hanno scelto di puntare su taglie di batteria non eccessivamente grandi per riuscire a contenere i pesi e soprattutto i costi e se andiamo a vedere i numeri di vendita forse non è stata poi così sbagliata come scelta e basta fateci sapere ovviamente nei commenti se avete una delle auto di cui abbiamo parlato e quali sono i numeri che voi riscontrate nel vostro uso e direi che ci vediamo nella prossima classifica